Come sarà la tua Matari? Più danzatrice o più agente segreto? No, no, guarda, noi facciamo tantissima la parte di tutto del processo di Matari, quindi racconteremo la sua storia, quello che lei ha vissuto e quindi... poi ovviamente non ti posso svelare tanto, però sarà sicuramente pochissimo danzatrice, ma in realtà racconteremo la sua vera storia, quella che in realtà non si è mai ancora saputa, non si è mai scoperta. Com'è il tuo rapporto con gli altri attori del cast? Beh, molto bene, John Sauvage è un personaggio straordinario, quindi per iniziare la mia carriera cinematografica poter comunque essere affiancata da un personaggio, da un attore americano, con colui che ha lavorato con i migliori registi e attori, per me è un grandissimo onore, è un personaggio, è una persona meravigliosa, dove si è instaurato comunque un bellissimo rapporto e mi sta insegnando tanto. Ormai è Natale, come sarà il Natale di Elisabetta Gregoraci? Beh, sarà sul set perché comunque avremo le riprese fino al 22 e poi ovviamente in famiglia qualche giorno e poi si tornerà qui perché comunque saremo impegnati tutti a gennaio.